È terra nostra, il posto più vicino al paradiso. In provincia di Belluno gli over 65 sono il 27% della popolazione. Nel 2025 saranno quasi il 30%. È una parte importante e con una grande potenzialità di intelligenza e creatività, di cui peraltro manca la consapevolezza nella società civile e nella politica. La valorizzazione di queste potenzialità avrebbe riflessi importanti che da un lato garantirebbero il benessere dell'anziano, allontanandogli il decrado fisico e intellettuale. Dall'altro potrebbero offrire un contributo decisivo ad una società sostenibile e più giusta. Leggiamo a conferma quanto ha scritto Vittorino Andrioli nel suo saggio Una certa età. Si può persino affermare che dal punto di vista del cervello e delle sue funzioni, passando da un tempo occupato nella monotonia di un lavoro al tempo della pensione, meno condizionato e semmai arricchito dal gioco, la terza età potrebbe caratterizzarsi per un livello di maggiore eccellenza dell'intelligenza espressa e realizzata. E' stato dimostrato che negli anni più avanzati della vita i neuroni, le cellule del cervello, si moltiplicano e che la formazione di nuovi neuroni continua nonostante l'età. Il vecchio ha quindi una grande potenzialità creativa e non è un caso che la bellezza si coniughi proprio con la creatività. A tanta creatività si deve ovviamente aggiungere la saggezza, ma ciò è noto fin dall'antichità classica. Allora, sulla scia di Andreoli, una buona politica dovrebbe agevolare l'anziano a ricrearsi in una libertà che gli permetta di assumersi qualsiasi impegno, sia esso culturale o manuale, a suo vantaggio o a quello della collettività. Impegni che non dovrebbero essere toccati dalla burocrazia o dall'agenzia delle entrate. Il lavoro crea ricchezza, questa la consapevolezza economico-sociale che dovrebbe prevalere. In questo fare l'anziano dovrebbe godere invece del sostegno della pubblica amministrazione per gli aspetti assicurativi o la messa a disposizione di sale per le attività culturali. Con una simile politica il progetto Belluno Capitale Europea della Cultura sarebbe sicuramente più vicino. Grazie a tutti.